Musica Vuoi una serata di luglio dal clima gradevole? Vuoi quasi 4000 fan impazzite, tutte ex teenager degli anni 2000? Vuoi una band dal calibro internazionale come Blue? Ed ecco che la prima serata del Festival Blues si conclude con un successo di pubblico. La boy band, o forse è meglio dire la ex boy band londinese, si presenta a Pistoia per una data dell'atteso Italian Summer Tour. Duncan, Lee, Simon ed Anthony non hanno fatto tradire le attese. Sul palco si muovono, ammiccano al pubblico, si siedono sugli sgabelli e ci ballano attorno, proprio come indica il manuale della brava boy band. E naturalmente eseguono tutti i maggiori successi del loro repertorio, da My City a You Meet Me Wanna, senza tralasciare One Love e la celebre A Chi Mi Dici, versione italiana del loro successo Brie Deasy adattata da Tiziano Ferro. Un concerto che riporta ai primi anni 2000, quando si acquistavano i cd in negozio, si attaccava in camera il poster dell'artista preferito, ma soprattutto quando i social agli albori non erano ancora in grado di rendere chiunque una celebrità e una band come i Blue riusciva a conquistare milioni di fan. Primo ricordo che avete legato ai Blue? Ero in casa di mia cugina a fare le coreografie sulle canzoni dei Blue, eravamo molto fiere. Top of the Pop e poi il concerto nel 2005, il primo concerto. I poster di Shoé, c'eravamo tutta a camera, tappettato. I poster di Shoé e i dischi, i cd, i primi cd che si compravano e eravamo piccolini. Ah, chi mi dice?